Devi attivare una nuova linea DSL? Vuoi un nuovo numero fisso? Ti hanno già tempestato di chiamate, ma non ti è chiaro cosa è meglio per te? Vieni in Unieuromade e ricordati, chiedilo ad Enrico, troveremo assieme tra tutte le offerte del mercato qual è la migliore e più adatta alle tue esigenze. Unieuro, batte forte sempre!